Ciao a tutti, sono sempre io, Alessandro, amministratore del canale Commedia Italiana. Sono molto contento, molto fiero di essere riuscito a portare sul canale un po' tutto il percorso della serie Netflix Baby. Una serie che si è conclusa praticamente oggi. Oggi è stata pubblicata la terza stagione, ma ovviamente anche la stagione conclusiva. Ancora una volta sei puntate da 50 minuti su Netflix. Io sono riuscito in qualche modo a recensire tutte e tre le stagioni. La prima leggermente in ritardo, perché l'ho scoperta qualche giorno dopo, ma si parla comunque dei primi di dicembre, uscì il 30 novembre 2018. La seconda uscì il 18 ottobre del 2019 e praticamente l'ho vista il giorno stesso, come ho fatto stavolta. Sto registrando il video alle 2 di notte, le ultime nottate che posso fare, poi dopo si ricomincia. E sì, anche stavolta è uscita il 16 settembre e l'ho vista tutta oggi perché ci tenevo a portare subito la recensione. Quando io vedo che una serie è tutta a mia disposizione e mi interessa, non riesco a dire questa la vedo oggi, questa domani, questa dopodomani. Dico vabbè, sono leggermente contrario a queste cose, ma siccome Netflix è fatto così e non è la Rai o Mediaset, me le sparo tutte se posso. Non sono ancora tornato a scuola, quindi posso in una giornata. E dunque sono riuscito a vivere e posso subito portarvi anche questa stagione e posso subito portarvi la mia recensione. Ovviamente è una recensione a caldo, ma ho le idee ben chiare. Una stagione bella, convincente, un finale soddisfacente, questo era molto importante. Ovviamente presentiamola. Questa stagione è diretta da Andrea De Sica e Letizia Lamartire, interpretata da Benedetta Porcaroli, Alice Pagani, Riccardo Mandolini, Brando Pacitto, Mirko Trovato, Lorenzo Zurzolo, Ciabelle Sastre Gonzales, Federica Lucaferri. E con la partecipazione di importanti attori del cinema italiano, parliamo per esempio di Isabella Ferrarica, Lattea Ranzi, Thomas Trabacchi, Tommaso Ragno. Con la partecipazione straordinaria di Max Tortora, che si è visto un po' di meno in questa stagione rispetto alla precedente, ma ragazzi, permettetemi di sottolineare, sottolineare e sottolineare l'interpretazione di Max Tortora, che negli ultimi anni si è dimostrato un attore veramente duttile, eclettico, non che non lo sapessimo già prima, però giustamente ci vogliono anche le prove, e le prove derivano dall'attenzione dei registi e dei sceneggiatori, della produzione, per gli attori, per fare in modo, per far sì che gli attori riescano a dimostrare quanto effettivamente valgano. E Max, comico straordinario, ha dimostrato non solo di essere anche un attore da cinema, grazie al grande Carlo Vanzina, al quale mandiamo un bacio e un saluto, come sempre con un grande affetto, che lo ha portato effettivamente nel mondo della commedia italiana. Ma poi negli ultimi 3-4 anni è riuscito a farsi notare davvero anche all'interno del cinema più impegnato, e questa serie, che per me è puro cinema, perché il livello è quello, insomma lo dimostra. C'è ancora la Dark Polo Gang, c'è ancora, c'era l'anno scorso, c'è quest'anno, c'è anche Achille Lauro, l'anno scorso mi ricordo che ho lotato particolarmente la sceneggiatura. Di questa serie lo faccio anche quest'anno, un po' meno, dell'anno scorso ma lo faccio, e lo faccio perché io sono molto fissato, essendo anche un grande amante del cosiddetto da me, perché nessuno lo definisce così, ma io lo faccio, decennio sentimentale italiano, in cui sono usciti tanti film italiani, se ci pensate così, da notte prima degli esami a tutto l'amore del mondo, l'ultimo bacio, ricordati di me, baciami ancora, scrivilo sui muri, tre metri sopra il cielo, ho voglia di te, come tu mi vuoi, film più o meno brillanti, scusa ma ti chiamo amore, scusa ma ti voglio sposare, eccetera, eccetera, eccetera. Dal 2000 al 2010 sono molto innamorato di quel decennio, e credo che dopo quel decennio in Italia si sia faticato un pochino a raccontare nuovamente i giovani, perché quando si parla di decennio sentimentale si parla anche di amore di mezza età, ricordati di me, Gabriele Muccino, ma anche l'amore eterno finché dura di Carlo Verdone, però ovviamente è stato più che altro un decennio dedicato ai giovani per l'80%, e dopo credo che l'Italia abbia fatto molta fatica in questo successivo decennio, e una serie come Baby ovviamente mi riempie il cuore di gioia, ripeto, grazie soprattutto alla sceneggiatura che in qualche modo rappresenta perfettamente la mia società. Ovviamente non si parla della società in cui io vivo in prima persona, perché non vivo ai Parioli, purtroppo non sono di Roma, per fortuna non di quelle realtà che Baby racconta, ma come sapete Roma è la mia più grande ambizione, e ovviamente io non posso ritenermi, diciamo, sullo stesso livello per condizione sociale, per modi di vivere dei protagonisti di questa stagione, però sono giovani così come sono giovani io, sono leggermente più grandi di me i personaggi, e quindi mi riempie il cuore per l'appunto di gioia sapere che esistano anche prodotti del genere che riescono ancora una volta, nonostante gli anni passino, a raccontare ai giovani che poi non hanno tempo, non c'è moda che tenga, il giovane c'è e va raccontato dal cinema, ma delle serie, insomma, poi anche a seconda dei periodi in cui si vive, oggi vanno di più le serie, soprattutto tra i giovani, quindi è un bene che proprio una serie sia riuscita in tre stagioni, in tre anni, a raccontare così bene i giovani d'oggi. La prima straordinaria, secondo me la prima stagione non è stata poi effettivamente replicata in quanto a bellezza e completezza, però seconda e terza sono veramente ottime, do un otto pieno a questa stagione così come ho fatto l'anno scorso per la seconda, la prima secondo me era da otto e mezzo, ma sicuramente ottima e ripeto con un finale non facile al quale devo fare i miei applausi, devo fare sicuramente i miei applausi, i miei complimenti agli sceneggiatori anche per la costruzione del finale, perché soprattutto poi se una serie ha un progetto tra virgolette, valutando anche quanto durano mediamente le serie, Netflix o meno, breve, corto, di sole, tre stagioni, immaginare un finale che riesca ad essere degno del lavoro fatto, che secondo me è stato veramente per l'appunto di livello, non è semplice, quindi faccio i miei complimenti agli sceneggiatori anche per questo, che secondo me hanno riaperto, come detto, hanno riaperto, ricoperto, come detto, in queste tre stagioni l'aspetto più positivo. Dunque ragazzi, non vi raccontavo la trama, ma perché credo che se siete qui, comunque conosciate un minimo le stagioni, almeno abbiate visto le prime due, quindi continuano le avventure più o meno positive, più o meno allegre, semplici o meno delle nostre due protagoniste, Chiara e Ludovica, interpretate da due bravissime, Benedetta Porcaroli e Alicia Pagani, ma con al proprio fianco attori giovani, bravissime, a parte i grandi che abbiamo descritto, che abbiamo elencato da Isabella Ferrari, che mi ha stupito, perché non l'amo particolarmente, ma mi ha stupito in questa serie, non ho citato Massimo Poggio, che forse è il meno brillante, tra gli attori maturi più esperti, ma sicuramente aveva citato anche lui, un grandissimo Max Tortora, un grande Tommaso Ragno, Thomas Strabacchi, una grande Galate Aranzi, insomma, a parte loro, credo che in qualche modo in baby ci siano un pochino anche i migliori attori giovani, emergenti italiani che abbiamo al momento, loro due bravissime, ma lo stesso Riccardo Mandolini, Lorenzo Zurzolo, che amo sempre di più, che ha fatto anche cinema, ragazzi, ha fatto anche commedia negli ultimi tempi, con Promessi Sposi, sotto il sole di Riccione, Brando Pacito, che ragazzi è passato anche dalle mani del grande Gabriele Muccino, l'è stato addosso quattro anni fa, e anche quelli un po' minori, Federico Locaferri, se amate la commedia ve la ricorderete, poveri ma ricchi, poveri ma ricchissimi, ma perché non se fanno scriver l'inno da Fedez, Fedez, ma che è in arabo, diceva De Sica, per tutta risposta. Insomma, ragazzi, bravissimi gli attori, bravissimi i giovani, e bravi ovviamente anche gli attori più maturi, non solo bravi, perché sono grandi attori, ma bravi anche a dimostrare, ancora una volta, la propria bravura, senza però calpestare quella emergente dei giovani. E ripeto, Max Tortora si vede di meno, ma è veramente straordinario. Devo fare anche un plauso sicuramente alla quarta puntata, che secondo me è la più bella, in cui c'è tra l'altro una scena di sesso, diciamo che è una scena d'amore, poi diventa anche una scena di sesso non troppo esplicita, perché non possiamo chiedere il paradiso, però è una scena d'amore omosessuale, tra, non è uno spoiler, insomma ragazzi, se conoscete la serie siete qui, se hanno ricominciato dalla prima, ovviamente, Brando Pacitto e Mirko Trovato, bravissimo anche lui tra l'altro, degna del miglior Ferzan Ospetek, degna dei migliori Favino e Luca Argentero in Saturno Contro di Ferzan Ospetek, poi ovviamente è esplicita fino a un certo punto, però due attori, credo, eterosessuali, che vanno a interpretare due personaggi omosessuali, e che recitano così bene, diretti così bene, se non sbaglio quella puntata diretta da Andrea De Sica non vorrei sbagliare, Letizia Lamartire ha diretto l'ultima e la terza sicuramente, comunque quella mi sembra da De Sica, beh, in maniera veramente straordinaria, quindi complimenti a tutti, regia e sceneggiatura attori, anche una bella colonna sonora, bella o meno, poi in qualche modo è una colonna sonora che è uno specchio di quella che è la società di oggi, ma vi dico, c'è anche una lacrima sul viso di Bobby Solo, quindi comunque c'è veramente di tutto, anche dal punto di vista delle musiche. Otto Pieno, bello il finale, bella questa stagione che conclude, una serie veramente di livello, e che ripeto, mi riempie il cuore di gioia, perché ero molto scettico, avevo paura prima che arrivasse Baby, temevo che non si riuscisse più in Italia a raccontare i giovani, come era stato fatto per l'80% dei film sentimentali italiani usciti dal 2000 al 2010, è stato fatto secondo me veramente molto molto bene, e invece, grazie a Dio, ho potuto ricredermi, godendomi, gustandomi, amando questa serie, e anche quest'ultima stagione. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, Baby 3, terza ed ultima stagione di quest'ottima serie, e se invece non la conoscete, se non l'avete vista, le tre stagioni, se volete il mio consiglio, recuperatele, perché meritano veramente tanto. Ciao a tutti, e sempre viva il cinema italiano, viva anche Netflix, che migliora sempre di più, e che dà, grazie a Dio, anche tanto spazio alle produzioni italiane. Ciao ragazzi.